sono contento di avere fatto questo corso non direi che sembra molto contento no sono contento di avere fatto questo corso perché ecco utilizziamo bene la lingua italiana utilizziamo le pause le sospensioni il gusto di dire bene le parole ecco frequentate dunque il corso di alta formazione parole suoni che vi insegnerà esattamente l'utilizzo di tutte queste tecniche